Non riesco più a staccare le dita Ho comprato una cosa che tutti da bambini abbiamo visto e avremmo sempre voluto comprare Le trappole cinesi per le dita Mi sono sempre chiesto se funzionano davvero Quindi oggi lo scopriamo insieme Sono quattro di diversa grandezza Le proverò tutte ma comincio dalla verde Ammetto di avere un po' di paura Concedetemi un po' di paura Ho cominciato con gli indici e non riuscivo più a toglierli Oddio Più tiravo e più le dita si incastravano Ma non potevo non metterle tutte insieme E mentre cerco di liberarmi senza alcun risultato Ti consiglio di seguirmi perché ho rischiato quattro dita E dopo tanti, tanti tentativi Ho liberato il primo dito Non avendo però capito come l'ho liberato Non è stato affatto semplice liberarmi dai successivi E dopo più di mezz'ora posso dire che funzionano